Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org Dondo Lindo Ruotolo, pagine di autobiografia. Primo giorno di collegio. Mi sentivo smarrito ai piansi. Il giorno 8 giugno del 1896 fu il giorno del nostro ingresso nella Casa dei Vergini. Ricordo le circostanze di questo giorno. Il distacco dalla scasa fu doloroso, ma non tanto data la vita estremamente tribolata che vi avevo emanata. A me sembrava di sognare quando fui lasciato solo fra tanti compagni. Erano più di trenta e tutti più grandi di me. Piansi, mi sentivo smarrito e cercavo di mettermi sempre vicino ad Elio per farmi coraggio. Ci furono assegnati i posti per studiare e per dormire e scendemmo per la prima volta in refettorio. Era un salone grande assai, capace di contenere più di cento persone, comodamente sedute a mensa. In verità c'era molto ordine in quella casa e molta pulizia. Quel silenzio, quell'ordine, quella pace mi piacevano assai. Al pomeriggio facemmo le preghiere, recitammo il santo rosario, si cantava da tutti l'ave mari stella e la giaculatoria o Maria concepita senza peccato. Quei canti erano così belli, mi scendevano nell'anima. Io però ero ancora come stordito e non sapevo cosa succedesse intorno a me. Di nuovo agli studi, un disastro, poi una grazia improvvisa. La mattina seguente fumo condotti alla scuola del collegio secolare annesso alla casa. Io frequentavo la seconda ginnasiale e mi feci ben presto notare per la mia cretinaggine. Al solito le lezioni a memoria le imparavo, ma dove si richiedeva l'intelligenza e la riflessione, io non ne combinavo nulla. Fu allora che mi raccomandai tanto a Gesù e alla Madonna perché mi avessero aiutato. Ed un tratto mi si risvegliò l'intelligenza. Era una grande misericordia di Dio. Oramai io ero fuori dei pericoli esterni del male e l'intelligenza poteva giovarmi a conoscere e ad amare Dio. Io infatti non ebbi l'intelligenza che per conoscere ed amare Dio. Penitenza e cilizi Cominciò un periodo di fervore in una grande attrazione per Gesù sacramentato e per la Madonna. Ma i primi atti di fervore spirituale furono atti di penitenza. Raccolsi nel giardino certi sterpi di rose, pieni di spine, e me ne formai un cilizio che strinsi fortemente ai fianchi. Non sapevo che ci voleva il permesso del confessore e lo feci di mia iniziativa. Ma quando egli lo seppe, volle vedere quel cilizio, e cingendomi la fronte disse Il tuo cilizio deve stare tutto nella volontà e nella mente. Osservavo scrupolosamente il regolamento e mi distinguevo per un'obbedienza illimitata e cieca. Lavavo i piedi al mio direttore, che era paralitico, e vi sentivo molta ripugnanza naturale, ma lo facevo tanto volentieri, intendendo di lavarli a Gesù. Sentivo molto fervore intorno ed un'attrazione a Gesù sacramentato che cresceva sempre. Domandai a Gesù il dono del dolore Domandai a Gesù il dono del dolore Ogni mattina gli domandavo Amore, dolore, umiltà, fede, mansuetudine, lunganimità, pazienza, ecc. Ed il dolore non tardò a venire, per non lasciarmi mai più, in un crescendo continuo, che è la più bella misericordia che il Signore mi abbia fatto. I dolori furono interni ed esterni. Internamente fui assalito da violenti tentazioni contro la fede, da scrupoli, da timori, da ansietà di spirito. Credevo di comunicarmi sacrilegamente. Vedevo tutto tenebre, e giunsi a tale punto, di tenebre, che mi sentì male, e pregai San Michele Arcangelo che mi avesse aiutato, come di fatti egli fece. Andavo spesso più volte al giorno al mio confessore per i miei scrupoli e le mie fiere tentazioni. Avevo letto che bisognava dire tutto al confessore, e quando mi sorgeva nell'animo un pensiero, io mi frettavo ad andare a dirglielo. Il confessore spesso mi cacciava e non voleva più ascoltarmi. Le prove esterno furono in breve le seguenti. Primo, siccome io ero molto petulante nell'osservanza, i compagni non mi potevano sopportare e mi avversavano tutti. Non ne ebbi amico neppure uno, e mi facevano molti sgarbi e maltrattamenti. 2. La mia intelligenza si era risvegliata in maniera sorprendente. Io scrivevo in versi e composi un poemetto sulla vocazione religiosa, un piccolo dramma sul Natale. Scrissi pure molte conferenze sui doveri e la dignità del sacerdote. Inoltre nella scuola ero diventato il primo. Rispondevo su tutto quello che mi si domandava. Parlavo di filosofia anche con termini tecnici, senza averla studiata. Scrivevo componimenti che erano letti con sorpresa. Mi chiamavano per complimento l'enciclopedico. Tutta questa esuberanza di intelligenza, che in realtà era dono di Dio e mi serviva solo per glorificarlo, giacché per il resto io ero sempre cretino, suscitò la gelosia dei compagni. Alcuni mi odiavano addirittura e cercarono, in tutti i modi, di mettermi in cattiva luce presso i superiori. Nella scuola apostolica i sorveglianti erano scelte dal direttore, fra i compagni stessi. Vi era il prefetto, il vice prefetto e il terzo prefetto, il censore di lingua, il censore del silenzio. Questo era bello, era molto educativo per i fanciulli. Era, in piccolo, una repubblica. Ognuno cercava di comportarsi bene per avere uno di questi uffici. I compagni preposti alle varie cariche, avendomi in Uggia, si servivano della loro carica per farmi del male. Io ero rigoroso e scrupoloso, anzi, nell'osservanza del silenzio, ma alla fine della settimana, nel quadro, mi usciva un cattivo punto. Così succedeva per la lingua e per tutto. Io, in verità, non mi difesi mai. Avevo una grande sete di patire e ringrazio il Signore di quelle contrarietà, confidando solo in Lui. Domandai di essere ammesso tra i figli di Maria, ma per due volte il consiglio, che era composto di miei condiscepoli, non volle che io fossi accettato, con mio grande dolore e vergogna. Ero in verità molto adolorato per queste contraddizioni, ma ne ringraziavo Dio e per evitare ogni pericolo di resentimento avevo l'abitudine di applicare tutte le preghiere, le comunioni e le opere buone per i compagni che mi avversavano. Pregavo per loro con grande fervore, benché sentissi che la natura vi ripugnava assai. Era quindi una lotta continua e penosa che facevo con me stesso. Già fin dal 20 agosto 1896 io avevo fatto al Signore un atto completo di abbandono alla Sua volontà. Questo atto lo ricopiai da una delle opere di Sant'Alfonso e lo conservo ancora. È l'unica carta superstite della mia fanciullezza. Quest'atto di abbandono fu ed è stato il programma di tutta la mia vita. Oggi c'è RadioRomaLibera.org la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org